Musica Buonasera gentili telespettatori e bentrovati da Honor News, il telegiornale delle Marche, a cura della redazione di UTVRS. Apriamo con lo sciopero degli operai della New Holland Iesi, in segno di protesta per il grave infortunio sul lavoro accaduto ieri sera al reparto collaudo funzionale dello stabilimento che produce macchinari agricoli. Per causa in corso di accertamento un operaio di 52 anni è stato investito da un trattore sul quale stava lavorando. Sembra che l'uomo stesse operando con un cavo da terra e di lato al veicolo. Il mezzo si è mosso scaraventando la terra e ha proseguito per qualche metro. L'infortunato è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale Torretta d'Ancona. La prognosi è riservata e le sue condizioni restano gravi. La protesta, iniziata ieri, è proseguita oggi negli ultimi 45 minuti del turno di lavoro del mattino, delle 12.15 e del pomeriggio. Preso d'assalto nella notte lo sportello automatico delle poste italiane a Corinaldo. Un colpo durato pochi minuti messo in atto dai gnoti che hanno fatto saltare il postamat in piazza del Cassero, nella parte alta del centro storico, prima di darsi alla fuga. L'esplosione ha causato un boato sentito in tutta la zona. Ancora da definire l'entità del bottino che i ladri hanno trafugato. Le indagini sono condotte dai carabinieri. 98 siti web che commercializzavano capi di abbigliamento con marchi contraffatti, sequestrati ed oscurati con un'operazione della Guardia di Finanza di Macerata. Importante operazione della Guardia di Finanza di Macerata che sotto la direzione del procuratore della Repubblica Giovanni Giorgio ha sequestrato ed oscurato 98 siti web che commercializzavano online prodotti contraffatti di abbigliamento e accessori di noti marchi nazionali ed internazionali. I gestori dei siti avevano collocato all'estero gli indirizzi IP per sviare e rendere più difficili le indagini. In Germania, Danimarca, Francia, Stati Uniti, Panama, Cina e Gran Bretagna dove si trovavano anche i server per le inserzioni di vendita dei prodotti. Enorme e l'illecito giro d'affari stroncato dato che ogni sito proponeva la vendita di svariati tipi di prodotti acquistabili anche fino ad un numero massimo di 999 pezzi per articolo. Per ingannare gli acquirenti, i domini di diversi siti sequestrati riportavano i nomi di alcuni famosi brand nazionali ed esteri. E restiamo a Macerata dove marito e moglie, entrambi albanesi, sono stati arrestati nell'ambito di un'operazione antidroga condotta dalla squadra mobile. Gli agenti, dopo pedinamenti ed appostamenti, hanno circondato la casa della coppia e dopo una perquisizione hanno rinvenuto 40 grammi di cocaina che la donna teneva, divisa in 5 confezioni, nel reggiseno. L'uomo che stava per salire sulla sua auto si è scagliato contro i poliziotti e le manette sono scattate dopo una colluttazione, rinvenute anche diverse migliaia di euro in contanti, probabile provento dello spaccio. Una cittadina rom residente a Falconara è stata arrestata dai carabinieri per rapina impropria e furto aggravato. La donna aveva imperversato nei supermercati dell'Anconetano, spesso insieme ad altri complici, dal 2007 al 2010, razziando vestiti alcolici e generi alimentari costosi, spesso minacciando gli addetti dei vari esercizi commerciali. Dopo un periodo di detenzione domiciliare scontato a Castelferetti si è vista raggiungere da un nuovo ordine di reclusione che ha fatto scattare il carcere presso Villa Fastigi di Pesaro. Serata molto turbolente in un appartamento di Senigallia dove un uomo litiga con la vicina ed arriva a minacciarla dicendo ti tiro una schioppettata, tanto è bastato per far scattare il sequestro dei fucile e delle pistole che il protagonista del fatto deteneva in casa per uso sportivo. Il pensionato, alle forze dell'ordine, ha dichiarato di non aver pronunciato mai quella frase. Cambiamo argomento, importante convegno organizzato dalla CIA martedì scorso a Fabriano sul tema il ruolo dell'agricoltura per il rilancio dell'Appennino. Sentiamo al microfono di Manoli Tascocco il direttore regionale Gianfranco Santi. Noi diciamo rivivere ma anche vivere l'Appennino per chi attualmente ci abita, ma anche per chi potrebbe nel futuro trovare la sua residenza in queste aree. Per fare questo però bisogna capire che chi ha potere di legiferare ha bisogno di far sì che chi abita in questi territori che tutelano in qualche modo l'ambiente, non permettono che avvengano frane o disastri, valorizzano il nostro patrimonio curando il nostro territorio, gli sia riconosciuto da un punto di vista economico un vantaggio. Se noi non riusciamo, oramai sono tanti anni che si parla dell'Appennino, delle aree interne, delle problematiche, per poterlo risolvere servono sicuramente alcuni servizi indispensabili, ma serve soprattutto che economicamente sia conveniente. E faccio un esempio. Non è pensabile che le attività che vengono svolte da piccoli imprenditori o medi imprenditori abbiano la stessa identica tassazione di chi svolge alcune attività tipo il commercio o come è nelle metropoli. Come non è pensabile, secondo me, se vogliamo incentivare le abitabilità in questi territori, che chi abita in quei territori, visto che ha svantaggi anche da un punto di vista della quotidianità, abbia per esempio un'IRPEF più bassa rispetto agli altri che abitano nelle metropoli dove ci sono tutti i servizi. Noi vorremmo diventare il punto di riferimento non tanto per gli agricoltori, ma per i cittadini e per le amministrazioni di tutti quei territori montani che sono nell'Appennino, perché l'Appennino ha una realtà diversa come montagna rispetto alle Alpi. L'Appennino è molto più difficile da abitare, è molto più difficile da, in qualche modo, rimanere per la mancanza di servizi. Una cosa fondamentale però, per esempio, per i giovani, è avere le reti telematiche. Non possono rimanere oggi giovani come oggi isolati dal mondo. Oggi le reti telematiche diventano uno strumento fondamentale. I militari della Guardia Costiera di Ancona, a seguito delle segnalazioni pervenute in merito alla presenza di fuligine sul manto stradale portuale, sono intervenuti al fine di verificarne la composizione, la causa e la natura dell'evento, a provocare il tutto la rottura del generatore diesel di una nave ormeggiata, la Mykonos, con emissioni in atmosfera di pulviscolo del cosiddetto carburante incomposto. I campioni di fuligine sono stati consegnati all'ARPAM per le opportune sanzioni. C'entra in pieno uno scooter ed invece di fermarsi per prestare i primi soccorsi si allontana per essere poi rintracciato dalla polizia municipale intervenuta sul posto. È successo ad Ancona, in Viale della Vittoria, direzione Piazza Cavour. La vittima è un 35enne trasportato con un politrauma in codice giallo a Torrette. Il pirata della strada invece sembra essere un uomo di 69 anni. Sottoscritto da Regione Marche ed ANMIL, Associazione dei Mutilati ed Invalidi del Lavoro, un protocollo d'intesa unico nel suo genere in Italia. I dettagli in questo servizio. Sottoscritto a Palazzo Raffaello il protocollo d'intesa tra la Regione Marche e l'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro per la Diffusione della Cultura delle Sicurezze. È la prima volta in Italia che una Regione stipula una collaborazione di questo tipo. In base all'accordo, ciascun soggetto nel quadro delle rispettive competenze si impegna, nell'ambito del Programma Regionale della Prevenzione, a promuovere e divulgare iniziative di educazione e formazione sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro, valorizzando anche le attività del Comitato Regionale per la Prevenzione. Prevista l'organizzazione di una campagna di comunicazione e di sensibilizzazione nelle scuole e nelle università e con tutti gli interlocutori interessati ad un progetto collettivo di cittadinanza sicura. L'ANMIL si impegna a costituire la Scuola Regionale della Testimonianza con l'obiettivo prioritario di fornire competenze professionali a soggetti infortunati sul lavoro per sviluppare didatticamente le loro esperienze di infortunio. A livello regionale verrà costituito un gruppo di lavoro coinvolgendo le strutture organizzative competenti e le istituzioni interessate per delineare il percorso formativo ad hoc. È il primo protocollo d'intesa che abbiamo sottoscritto con una regione e quindi di questo per noi è un fatto eccezionale, storico che ci gratifica per il lavoro che già da anni stiamo portando avanti con le testimonianze nelle scuole e adesso anche nelle fabbriche che ci chiamano abbastanza sovventi, spesso per fare... quando hanno la giornata della sicurezza veniamo anche noi chiamati, coinvolti, con testimonianze a contribuire, a far sì che certi infortuni purtroppo non devono più cattere. Ed apriamo ora la pagina sportiva con il basket. È un po' la notizia del giorno. La victoria, Libertas, Carpegna, Prosciutto, Pesaro e Sonera il suo tecnico Federico Perico che si separa dal club bianco-rosso con il poco invidiabile record, 10 sconfitte su 10 gare ed ingaggia Giancarlo Sacco che avrà il durissimo compito di risollevare le sorti di una squadra che dopo i recenti capò ha davvero il morale sotto i tacchi. È l'ennesima impresa della sua carriera, forse la più difficile a cui è chiamato il popolarissimo tecnico lanciato giovanissimo tanti anni fa da Walter Scavolini. Di mezzi miracoli nella sua carriera Giancarlo Sacco ne ha compiuti parecchi spesso salvando compagini che si trovavano in situazioni pressoché disperate. L'impresa però a cui è stato chiamato stavolta le supera tutte come quoziente di difficoltà e ciò avviene proprio nella sua Pesaro. Prende una squadra che ha subito 10 sconfitte su 10 gare disputate e quel che peggio è sembrata, almeno nelle ultime uscite, remissiva rassegnata al proprio destino, quasi preda di una fatalità negativa forse inconscio frutto di non essere all'altezza del compito. Parliamoci chiaro, Sacco è davvero l'unico in circolazione che ha una piccola chance di farcela. Il suo modo di lavorare, il suo carattere schietto, sanguigno è riuscito in tante circostanze a cavar fuori il classico sangue dalle rape. Sarà però durissima. I ragazzi in bianco-rosso sono sembrati quasi smarriti ed il pubblico pesarese, quel famoso sesto uomo dell'hangar di Viale dei Partigiani dopo tante tribolazioni, è stanco e disilluso. Giancarlo con quel suo fare un po' portolotto nel senso più positivo del termine, a 28 anni conquistò la Coppa Italia e fu nominato allenatore dell'anno. Ha inoltre raggiunto due finali scudetto, ulteriori due finali di Coppa Italia e due finali in competizioni europee. Non sarà stato un maestro di diplomazia, altrimenti avrebbe allenato come minimo in Eurolega, ma è uno dei tanti paradossi dello sport. Se lo conosciamo bene, lui non se ne è mai curato troppo, mantenendo sempre la schiena dritta, proprio come piace a noi. Se poi ce la dovesse fare, a Pesaro entrerebbe in odore di santità. Siamo al calcio, Lorenzo Illuzzi di Molfetta è l'arbitro designato per dirigere Empoli-Ascoli, match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie B in programma sabato alle 15 allo stadio Castellani di Empoli. Gli assistenti sono Michele Lombardi della sezione di Brescia ed Antonio Vono di quella di Soverato. Passiamo al ciclismo e dalla festa Aximarca Porto Sant'Elpidio con l'assegnazione del premio top. Vediamo. E' sempre al top L'Aximarca come il primo dei ciclofili benemeriti ad Amorea, a cui viene consegnato il premio top 2019 nel Galaxino alla Perla sul mare di Porto Sant'Elpidio. Ricordando gli approfondimenti, giovedì ciclismo, TVRS canale 11 alle 22.30, venerdì sulle strade, TVRS Marche canale 11 alle 20.15, ecco il mecenate, promotore, atleta, al microfono di Umberto Martinelli. L'Axi, adesso ho condiviso quest'anno una iniziativa di Maurizio dell'Axi e lui mi ha chiamato, mi telefonò per vedere, mi propose il circuito 4x4 off-road. Quindi questa iniziativa mi è piaciuta e l'ho condivisa e l'ho sponsorizzata e quindi abbiamo messo il nome Fertesino Cup 4x4 off-road. Cross fino a gennaio, poi dalla primavera mountain bike. Sì, un'iniziativa, sono sempre gare di ciclocross, gare di mountain bike, però viste in questo contesto, organizzate in questo modo, con la partecipazione anche del CSI, con Condi, quindi perché non divulgare e non aiutare le persone che hanno sempre metterci qualcosa di un'iniziativa, qualcosa di nuovo, di diverso, per uscire fuori dalle solite... E stiamo concludendo al capitolo della creatività, dell'inventività. Esattamente, quindi anche nel ciclismo, per non rendere sempre le cose monotone bisogna dare qualcosa di diverso e naturalmente io sono un po' Chiamiamolo genio oltre l'ostacolo. Genio no, non mi reputo un genio, solo che piace aiutare le persone che ci credono su certe attività. Volle, nuova vittoria della Lube al Mondiale per Clebsi Biancorossi hanno superato i padroni di casa del Sada Cruzeiro con un altro 3-0 nella seconda gara della fase a Girone. Un successo pesante che lascia i campioni d'Europa solo in testa alla classifica con due vittorie. Stasera alle 22 l'ultima gara del Girone contro i russi dello Zenit Kazan per confermarsi definitivamente in vetta. È stata battaglia nei primi due set contro i brasiliani, la Lube però è cinica nei momenti decisivi e vince nettamente la sfida a muro 10-3 ed al servizio 9-3. Le al 15 punti e un super bienec 14 guidano i biancorossi quindi al secondo successo nel torneo iridato. Vediamo ora le previsioni meteo per venerdì 6 dicembre. Il tempo rimane ancora un po' instabile sull'Italia centro-meridionale mentre sul resto del paese il sole tornerà ad essere sempre più presente. Spostiamoci ora al centro dove le piogge e i temporali insisteranno sul versante tirrenico risultando localmente anche piuttosto intense sul Lazio e sull'Umbria. Qualche pioggia anche sulla Toscana e sulle Marche. Sulla Sardegna invece cielo sereno o poco nuvoloso. Vediamo le temperature. Di notte i valori toccheranno punte minime di 6 gradi sotto lo zero e non supereranno i 15 gradi su tutta l'Italia. Durante il giorno attendiamo invece fino a 11 gradi al nord e fino a 16 al centro e punte di 19 gradi sulle regioni meridionali. Bene, per ora abbiamo terminato. Per ulteriori aggiornamenti e dettagli visitate le nostre pagine ufficiali di Facebook e di Instagram e il nostro sito ilmeteo.it dove la Il fa la differenza. Arrivederci. E chiudiamo ancora con il calcio. Sarà Forza Empronese-Portodascoli la finale della Coppa Italia Marche di Eccellenza. 0-0 al Ciarrocchi nel match giocato nella serata di ieri dopo il 2-2 dell'andata mentre i metaorenzi di Mister Fucili passano il turno grazie all'1-1 di Fabriano dopo che la prima gara si era conclusa a reti inviolate. Nella Coppa di promozione invece vanno in semifinale Gabicce Gradara, Biagionazzaro, Chiesa Nuova ed Atletico Ascoli. E con questo è tutto per il nostro telegiornale grazie per averci scelto a domani.